E quindi se avessi coloro che gestiscono gli acquisti dei titoli di Stato o le agenzie di rating che decidono chi è più credibile o meno, gli direi col cuore in mano, ragazzi se la Lega va al governo, non va al governo per danneggiare gli italiani, per mettere in discussione le nostre case, le nostre pensioni, i nostri risparmi, tutt'altro. La Lega vuole prendere per mano questo Paese per riportarlo laddove merita. E quindi investire in Italia converrà, e quindi credere nell'Italia converrà, con le buone maniere.